Mediterranea Mediterranea ritorna a Bergamo il 30 novembre in un'iniziativa pubblica in cui Alessandra Sciurba, coordinatrice del team legale di Mediterranea, sarà presente assieme ad altre persone, altri soggetti, per raccontare quello che siamo, quello che stiamo facendo. Il Mediterraneo nasce nel momento in cui non ci sono più navi ONG, navi solidali, umanitarie nel Mar Mediterraneo e quindi nessuno è più in grado di raccontare quanto accade. Noi abbiamo deciso che una nave battente bandiera italiana fosse necessaria, fosse necessaria perché i numeri ci dicono che otto persone in media al giorno muoiono nel Mar Mediterraneo e quindi potevamo o guardare da un'altra parte oppure comprare una nave e essere lì dove la contraddizione maggiormente si esprime. Quindi una nave che va a verificare, monitorare, raccontare quanto accade e nel caso in cui sia necessario anche salvare vite umane.